Abbiamo raggiunto la cittadina di Camerano in provincia di Ancona. Forse non tutti sanno che sotto il centro storico di questo comune anticamente sono state scavate delle bellissime gallerie sotterranee. Ci troviamo davanti all'ufficio informazioni di Camerano, da qui parte il percorso per visitare le grotte. Andiamo a scoprirle insieme. Sono con Jacopo Facchi, assessore alla cultura e al turismo del comune di Camerano. Ci troviamo in un posto davvero particolare perché siamo nella città sotterranea di questo paese in provincia di Ancona. Siamo qui per scoprire proprio la storia di questo luogo e anche appunto la nascita e tutto quello che ci puoi raccontare di questo bellissimo posto. Sì, la nostra città sotterranea è particolarmente antica. Le prime grotte probabilmente risalgono la pre-storia. Quando una popolazione proveniente dalla Dalmazia si insediò sulle parti più alte delle colline che circondano il Monte Connor, quindi non soltanto Camerano ma anche le colline circostanti. Questa popolazione iniziò a scavare anche sottoterra per ricavare dei luoghi dove nascondersi in caso di attacco dell'abitato, dove conservare il cibo. Siamo a 14 gradi e questa temperatura è costante tutto l'anno. E anche luoghi dove tumulare i morti, quindi dove tenere le sepolture. La collina di Camerano è stata abitata in maniera quasi continuativa dalla pre-storia ad oggi, per cui come è cambiata la città sopra suolo è cambiata anche la città sotterranea. Le grotte sono aumentate di numero, di ampiezza e anche le funzioni sono cresciute. Proprio la sala in cui ci troviamo era un antico luogo di riunione, probabilmente per cavalieri medievali. Camerano era una delle tappe della Via Loretana, quindi i pellegrini si fermavano qui a Camerano l'ultima notte per poi proseguire al mattino e raggiungere la Santa Casa, quindi la Santa Casa di Loreto. Abbiamo oltre quasi un chilometro di grotte aperte, facilmente fruibili da tutti. In realtà sotto Camerano sono molti di più le grotte ancora da esplorare e soltanto in parte conosciute, quindi si può parlare anche di più chilometri, più centinaia di metri di grotte ancora da aprire al pubblico e da conoscere. Come si visitano le grotte, quindi dove bisogna rivolgersi, a chi bisogna rivolgersi per visitare le grotte e anche quali sono gli orari e quali sono i prezzi per entrare, per accedere e vedere questa meraviglia qui sotto Camerano. Abbiamo un ufficio turistico in via Maratti, proprio nel centro storico del paese, da dove si entra direttamente all'interno della città sotterranea. L'ufficio è gestito dalla Proloco in modo egregio ormai da anni e durante l'estate l'ufficio è aperto sia la mattina dalle 9 e mezza fino a lune e poi nel pomeriggio dalle 3 e mezza fino alle 19. Qui ci troviamo in un'altra sala della città sotterranea di Camerano che vale sicuramente la pena vedere. Perché? Siamo sempre nel complesso trionfi. Questa è l'altra sala semisferica e la sua bellezza è legata alla volta e la particolare acustica che noi che stiamo al centro stiamo vivendo e stiamo ascoltando. La volta è una grande volta a forma di ogiva, quindi con una parte alta a punta e proprio nella parte alta vi è una grande stella o un sole, dipende poi come viene vista, da cui partono dei fasci, sono 16 in tutto, che culminano sulle colonne che ci circondano. L'acustica appunto è la cosa più particolare di questo ambiente. Ambiente che durante le giornate in cui illuminiamo le grotte soltanto con le candele è una delle più belle, quelle più che piace di più alla gente. Un'altra iniziativa organizzata sempre dalla Proloche, particolarmente gradita dal pubblico, sono le degustazioni. Ospitiamo all'interno della città sotterranea dei produttori di vini, comunque del territorio di Camerano, del territorio del Conero, che presentano tre vini in tre ambienti suggestivi. e proprio uno è proprio questo. Abbinati ai vini anche salumi e formaggi di produttori locali. Quindi si unisce la bellezza del luogo con la bellezza e il gusto del palato. E ora insomma con l'acpolino in bocca continuiamo il nostro percorso. Andiamo. Qui Jacopo dove ci troviamo? Ci troviamo nel luogo in cui, secondo la tradizione popolare, si trovavano le antiche prigioni medievali di Camerano. Queste nicchie così particolari come forma sono le uniche trapezoidali di tutto il sistema. Probabilmente fan pensare a un'origine molto molto antica. E secondo la tradizione popolare, come ti dicevo, queste erano probabilmente le antiche prigioni. Quindi immaginiamo come si poteva vivere qui dentro nel Medioevo, senza luce, al freddo, con questa umidità. Si perdeva completamente il senso del tempo. Mi raccontavi che tra l'altro qui nella città sotterranea di Camerano, nella seconda guerra mondiale, gli sfollati del paese e delle zone limitrofe hanno trovato dimora. Sì, durante il passaggio del fronte, tra il primo e il 18 luglio del 1944, oltre 3.000 persone tra cameranesi del centro storico e sfollati di Ancona trovarono rifugio alle bombe. Le tantissime nicchie che ci sono lungo il percorso erano diventate un po' le case dei cameranesi. All'interno vi era anche acqua, quindi una fonte importante per la vita. Soltanto, saltuariamente, gli uomini per lo più uscivano, andavano a cercare il cibo e poi rientravano. Qui, Jacopo, vediamo molto bene come la città sotterranea di Camerano si sviluppa in più piani. Sì, i piani principali sono quattro. Vediamo molto bene questa lunga scala che arriva fino in fondo alla grotta Burkiani, il nome di questo tratto della città sotterranea. E tra il piano più basso delle grotte e il piano più alto ci sono oltre 60 metri di dislivello, quindi come un condominio di 20 piani, ovviamente un condominio rigirato sotto terra. Quindi veramente un sistema complesso, più piani e collegati l'uno con l'altro con delle scale. Abbiamo fatto una lunga passeggiata in questa città sotterranea e adesso abbiamo raggiunto il luogo più profondo. Sì, siamo all'interno del tratto di grotte dei Marchesi Mancinforti, utilizzate da loro per alcuni secoli. Siamo appunto nel punto più profondo, perché siamo 20 metri sotto Piazza Roma, sotto la piazza principale del paese. E questo ambiente si caratterizza per la presenza di abbondante acqua. Abbondante acqua che proviene dalle parti più alte del colle, acqua che potremmo anche berla, seppur non essere la levissima. È un'acqua particolarmente dura, ricca di calcare, tant'è che poi sul soffitto si vedono delle lunghe stalattiti e sul pavimento delle stalagmite che piano piano si stanno formando. Abbiamo raggiunto, Grotta Ricotti, la nostra ultima tappa di questo giro nella città sotterranea di Camerano, un luogo molto suggestivo. Sì, la sua suggestione è legata all'aspetto dell'ambiente. Una chiesa con una vata, un'abside proprio dietro noi, un altare, una cripta al di sotto dell'abside e una croce. Una croce che viene interpretata come una croce patente, una croce templare. Molte persone che l'hanno vista, l'hanno inquadrata proprio una croce legata all'ordine templare. Della Grotta Ricotti il fascino è anche legato al fatto che è una chiesa sotterranea. Quindi ci troviamo alcuni metri sottoterra sotto quella che era un'antica chiesa, una chiesa del nonno secolo, la chiesa di Santa Appollinare. Oggi purtroppo scomparsa. Oggi purtroppo scomparsa.